Eccolo Via la gara Lungo passaggio in avanti Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa C'è la palla lunga in avanti Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari E qui hanno cercato l'azione manovrata, prolungata, in attesa di trovare lo spazio per l'affondo Purtroppo però non hanno avuto fortuna Prova il filtrante Posizione regolare Bella parata Ottima la parata del portiere Ha mostrato una gran classe Un'autentica parata distinto questa Grazie 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 Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa Vuole la profondità Cerca di servire il compagno in avanti Riceve un pallone interessante Bel pallone Bell'anticipo Pericolo sventato Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio Cerca spazio Ha la possibilità di andare verso la porta Trappola del fuorigioco E' partito una frazione di secondo in anticipo rendendo vano il magnifico tocco del compagno Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo Cerca l'uomo là davanti Situazione spinosa ma il suo intervento è stato provvidenziale Ecco un'occasione di contropiede La mette sulla sinistra La butta in mezzo Intercetta il passaggio pericolo Poteva essere un contropiede interessante questo Peccato Il punteggio iniziale è immutato 0-0 Cerca di lanciare il compagno Palla in out Ci sarà rimessa laterale La mette sulla fascia E' il portiere la fa sua Appoggia il pallone largo con eleganza Prova il traversone Vuole la profondità La mette in avanti Tocco preciso Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio Prova il filtrante Prova a verticalizzare Era un tentativo apprezzabile non ha trovato l'uomo però Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna Prova la giocata nello spazio C'è la palla lunga in avanti Cerca spazio Ha spazio sulla fascia Evita l'intervento dell'avversario La cross è in mezzo Solta e colpisce di testa Che grande parata E' incredibile che ci sia arrivato Sembrava un gol fatto Prova di testa Completamente fuori misura Gioco una palla lunga Bella serie di passaggi Allontano il pallone Ottima pressione la sua Palla recuperata Passaggio in avanti L'azione si... Primo tempo che finisce qui Beh finale di tempo è stato impressionante E' vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio Ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria Grazie